Ormai ci siamo, manca una settimana. Sabato prossimo ci sarà l'apertura ufficiale della nuova chiesa Santissimo Salvatore di Biancavilla, sorta nel quartiere Sparti Viale, tra via Giacomo Matteotti e Viale Europa. Una struttura moderna è realizzata secondo la riforma voluta dal Concilio Vaticano II, con l'altare in marmo collocato al centro e l'ambone dove viene letta e proclamata la parola di Dio posto di fronte alla sede del celebrante. Queste alcune delle caratteristiche che risaltano agli occhi di chi entra nella chiesa. È nella diocesi di Catania la prima chiesa che nasce post conciliare, quindi anche dal punto di vista liturgico. Ambienti assestanti sono quelli che ospitano il fonte battesimale, il tabernacolo dove viene riposta l'eucaristia e il confessionale. I posti a sedere per i fedeli sono disposti a semicerchio. Sabato 5 giugno sarà dunque una grande festa per i residenti del quartiere che aspettano questo momento da anni. Facciamo il conto alla rovescia, aspettiamo il 5 giugno 17.30 come orario per spalangare la porta, per spalangare le porte finalmente nella persona del vescovo, del popolo santo di Dio accogliere questo grande dono che è questo tempio santo che il Signore regalerà non solo alla parrocchia Santissimo Salvatore, non solo a Biancavilla ma come ho detto anche alla nostra amata Arci Diocesi. È un dono per tutti. E voglio dire anche un'altra cosa che è un segno di speranza. Di speranza perché il Signore fa nuove tutte le cose. Le cose vecchie sono passate. Noi usciamo fuori da un tempo complesso, anche pandemico. e questo segno della Chiesa Nuova è come un respiro. Le campane risuoneranno. Un respiro per ricordarci che Dio non abbandona e che Dio fa nuove le cose. Anche anche dalla nulla, dal niente, dal dolore, dalla sofferenza il Signore se noi glielo permettiamo può trarre delle cose belle. Chi entra qua dentro, chi incontra la parrocchia Santissimo Salvatore possa vedere l'amore di Dio, possa vedere questo abbraccio, sentire questo abbraccio benedicente. Dietro l'altare ai piedi del grande crocifisso, incastonata nel pavimento, ecco la prima pietra posta il 28 aprile del 2018. Ricordo quel giorno padre Brancato che dal cielo gioisce, gode di questa bella opera di Dio perché la Chiesa è un'opera di Dio, un'opera del suo amore fedele per questo popolo e non solo. Ricordo il dottor Glorioso, allora sindaco di Biancavilla, che ringrazio di cuore e cordialmente per aver fatto anche la sua parte, così come ringrazio anche l'attuale sindaco, il Antonio Bonanno, per averci sostenuto, aver sostenuto la parrocchia in questi anni di lavoro. La celebrazione di dedicazione fissata per il pomeriggio alle 17.30 sarà preseduta dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. Siete tutti invitati, tutti, con il cuore, perché qui, quel giorno, io desidererei che entrassero tutti, entrassero tutti, ma con la fede, con il cuore, possiamo essere tutti presenti. È un pensiero bello sentirci vicini e sentirci uniti. Ad accompagnare la cerimonia di dedicazione sarà il nuovo organo elettronico suonato dal maestro Vincenzo Benina.